Ok Cambia qualcosa questo dal Dal surf alla fine oppure no Guadagno punti seguendo? Sì grazie Lo sappiamo A parte che questo messaggio Lo da sempre No volevo saltare a prendere Lo dava sempre però scusami un attimo Ma anche Nella parte diciamo Non sciistica Possiamo Fare delle acrobazie Noi Ok Preso Adesso io come dovrei fare a fare delle acrobazie Ecco appunto Sui trampolini Per dire posso farli sui trampolini Aia E lo immaginavo Aia Oppure no Perché non ti specificano Come farli E in che modo Tra l'altro A parte quanto Sono veloci Sti coccodrilli Madonna mia Eccola dai L'avevo preso Ok questa L'abbiamo presa Almeno Perché io credo Che Ah cavolo Credo che le super mosse Siano sempre scriptate Siano sempre Per esempio Scivolare qua sul tronco Tutte queste cose Ah ma queste Ok io pensavo che Tutte le alghe Ci facessero saltare Invece questo Gruppozzo di Alghe brutte Ci fa danno Ci fa danno Ok Beh dai Abbiamo già preso Quattro pellicole Ok Cinque Non mi Lamento Ok Ok Oh questo è già Un pelo Molto più difficile Rispetto Al surf Onesto Forse Non arriviamo A cinquemila Però cavolo Ok Ok No 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 Non girare All'improvviso All'improvviso Dai Nonostante tutto Ce la siamo cavata Male Ma ce la siamo cavata Beh neanche troppo Male in realtà Che Sei incastrato? Ma a parte Quanto è brutto Quanto è brutto Il modello Dell'elefante Queste orecchioni giganti Cioè hanno così E poi Ma lo pone qua sopra Incredibile Dobbiamo assicurarne Una testimonianza La scienza Macchina da presa Motore Sei bravo a parole Ma con i pugni Come te la cavi Gesù Tarzan Contro Wolf Tra l'altro Zero nastri Il che vuol dire Che è proprio un livello Fai a botte Ed è finita Premi il tasto Quadrato più rapidamente Possibile Per far alzare Il contatore Della forza Quindi effetto Una combinazione Per sferrare Un attacco Combinazione Di cosa Fra Ah Così Non ho capito Ma devo schiacciare Quadrato O X Lì c'è la X X Cerchio Quadrato Allora Aspetta Continuiamo X Cerchio Quadrato Sì Certo Come no Tutto qui Questo era Il livello Gesù Buono Signor Wolf Noi abbiamo Accordo Lei potrà razziare Tutto lavoro Che vorrà Patto di non interferire Con la mia raccolta Di esemplari Che Lo raccoglierà In pezzi Le costerebbe Il compenso Patuito Il ritorno Nella cella All'istituto Siamo di fronte Alla più grande Scoperta Scientifica Del secolo Quella Che mi consacrerà Alla storia Scusa Mi ha fatto morire La faccia Ehi Piano Ehi Certo Come no Non volevo Stavo per fare Un commento Ma ho preferito Stare zitto Guarda Un altro nastro Bello Non è vero Che non c'era Neanche uno Nel livello Non è vero Non è vero Grazie a tutti.